ciao a tutti bentanti sul canale questa è la serie car of the day una macchinina al giorno quest'oggi abbiamo una camaro zl 1 del 2017 questa è nuovissima l'abbiamo comprata proprio l'altro giorno e forse l'avete vista nel video di dove abbiamo aperto le macchinine tutte quelle che abbiamo trovato a un euro questa è la serie tennao dennao e del 2021 se non sbaglio perfetto sì sì questa è una compatta proprio l'altro giorno è una camaro zl 1 arancione ecco adesso apriamo la plastica che c'è quanta plastica eccola qua bellissima sa qua è proprio un bel arancione con i cerchi neri andiamo a vederla un po nel dettaglio è eccola qua è fantastica questa macchinina qua è guardate un po si è poco dettagliata perché non ha non ha nessun nessuna ride calcomania sui 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 fanali posteriori anteriore però la macchina con le calcomanie sul tetto sui fianchi numero 17 un bel colore cerchi neri è fatta in malesia anche lei come tutte le altre ormai del 2016 ma come fate il 2016 con del 2007 il modello c'è qualcosa che non ci torna non possono averla fatta prima del modello però vabbè ed è uscita nel 2021 quindi mi ha trovato l'altra volta nel grande cestone da un euro che vedete il video lo vedete dove vedete lassù il video è quindi questa fa parte della car of the day una macchinina al giorno questa oggi una bella macchina americana e credite molto bella del 2021 allora se volete iscrivetevi al canale domani una nuova macchina e ogni giorno una pillola con nuovi modelli tento queste le avete viste quando abbiamo fatto questi quei grandi unboxing adesso piano piano abbiamo una una abbiamo questa abbiamo del 2018 2017 2010 insomma e poi abbiamo le vintage insomma ogni giorno ne pubblichiamo una adesso stiamo a prendere un po le ultime quindi vi aspetto domani iscrivetevi al canale vi aspetto numerosi qua sotto in descrizione ci sono tutti i link di nostri social a domani ciao 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 ciao